Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di studi su giocare nel Cinquecento il secolo del veronese e prima però di cominciare vorrei dare la parola alla dottoressa Antonia Pavesi, consigliera comunale con delega alla cultura. Prego dottoressa. Buongiorno a tutti, un saluto da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco Flavio Tosi. Ringrazio di cuore la fondazione Benetton Studi e Ricerche per aver creato questa splendida occasione di riflessione legata al gioco e a Paolo Veronese. Noi in questi giorni da luglio abbiamo questa, me lo dico senza bellissima mostra perché è anche frutto di cinque anni di lavoro a curatella della dottoressa Marini e dell'università con il professor Eichemann però frutto anche di una grande collaborazione internazionale con la National Gallery e poi con i diversi musei del Veneto che hanno creato questa grande rete. Quindi per noi poter approfondire il veronese sotto tutti i punti di vista è una grande occasione. Penso che ringrazio anche tutti gli ospiti dai diversi paesi perché so che vengono da diversi paesi quindi credono in questa proposta e anche alla fondazione Benetton che per anni ha costruito uno studio sul mondo del gioco che per la città di Verona dopo la dodicesima edizione del Toccatì è diventato un punto fermo. Ma il punto fermo fondamentale è che il gioco non è solo divertimento ma è anche cultura, studio di una cultura e di una tradizione che oggi voi ci potrete dare e insegnare come è stata costruita e frutto anche di una cultura che si tramanda di padre in figlio e che in questi tempi un po' si perde. Quindi queste sono splendide occasioni per ricostruire questa relazione anche tra genitori e figli nel passaggio della conoscenza. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La fondazione Benetton si occupa di storia del gioco, c'è una rivista, c'è una collana di studi, organizza incontri e c'è anche una borsa di studio che prima era intitolata Stefano Benetton e poi da una decina d'anni, poco più, a Gaetano Cozzi che era docente a Venezia ed è stato uno dei promotori di questo premio per tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione sulla storia del gioco attraverso i tempi. L'edizione di quest'anno 2014 ha finalmente i suoi vincitori e oggi per la prima volta rendiamo pubblico chi sono i vincitori di questa edizione 2014. Tre premi come ogni anno, il primo non in ordine ovviamente di meito ma così va al dottor Riccardo Fassone, è una tesi di dottorato, dottorato in scienze del linguaggio e della comunicazione a Torino, Università di Torino, il titolo della tesi Every fame is an island, borders, endings, extremities in videogames, la seconda Matteo Sartori, laurea magistrale in storia del medioevo dall'età contemporanea, titolo della tesi Il gioco e la novellistica fra 3 e 400, la terza, il terzo premio, va alla tesi della dottoressa Monica Silvestri, laurea vecchio ordinamento in conservazioni beni culturali, indirizzo archeologico presso l'Università della Tuscia, tabule lusorie del foro romano. Ecco, questi sono i vincitori dell'edizione 2014 e adesso se John vuol dire due parole, se no appunto possiamo iniziare, come vedrete anche dal programma e come appunto ascolteremo, il 500 è un turning point nella storia della ludicità in questo sistema ludico e come appunto da programma cercheremo di declinarlo in vari suoi aspetti. Allora, forse possiamo passare al primo relatore, il professor Ortalli, direttore della rivista ludica, animatore di tante iniziative all'interno della fondazione, il titolo della relazione, giochi verbali, carti e salotti, la veglia. Bene, tutti nel gioco sono uguali, però i giochi non sono gli stessi per tutti, quelli praticati dall'aristocratico, dal mezzadro, dal manovale, non sono necessariamente identici, quando lo fossero anche il rituale ludico sarebbe certamente diverso. Qui noi vorremmo occuparci di una pratica ludica, il gioco verbale, che si caratterizzò come pochi altri per il suo legame con l'ambiente delle corti e dei salotti aristocratici, in modo particolare nel secolo del veronese, in occasione delle veglie. Le riunioni di gruppo, se mettiamo la prima, le riunioni di gruppo per raccontare e raccontarsi, fa parte di molte tradizioni, ma di queste veglie cinquecentesche ci interessa il risvolto esplicitamente ludico, il gioco verbale, con regole sue proprie, e schemi messi a punto anche grazie a una letteratura specifica preoccupata di precisarne lo svolgimento. L'argomento viene trattato da me, specialmente per i suoi risvolti ludici, non per quelli che hanno maggiormente interessato, che sono quelli letterari e culturali. Noi possiamo partire da Baldassare Castiglione, dal suo cortegiano, un'opera straordinaria che propose la figura ideale dell'uomo di corte, fornendo una sorta di codice, regola, immagine, destinata a diventare un archetipo. Uscito a stampa nel 1528, l'opera ebbe subito un'enorme diffusione, con edizioni, traduzioni, ristampe. Cosa fosse la veglia? Ce lo dice il Castiglione, descrivendo le serate che avevano luogo alla corte di Urbino. Parla del 1507, questa è l'immagine di apertura di un manoscritto del cortegiano di inizio 600. La corte di Urbino, al tempo del duca Guidubaldo da Montefeltro, una nobile compagnia, alla sera si riuniva attorno alla duchessa, che voi vedete in questa immagine su questa specie di poltrona più evidenziata in velluto verde. E tra piacevoli passatempi c'erano i giochi verbali, le chiacchierate. Già la scelta del gioco è una elegante partita di signorili schermaglie. Si discute, per esempio, se fare il gioco delle virtù e dei difetti delle persone che si amano, oppure il gioco della pazzia per amore, o delle ragioni che suscitano nella donna sdegno verso la persona amata. O, per esempio, su cosa significhi quel gioiello, se andiamo sulla seconda e sulla terza, quel gioiello, che è anche quella successiva, quel gioiello che assomiglia un po' a un S, che cosa significhi, se ne discuta. Questo è il quadro di Raffaello conservato agli uffizi. A questo punto, deciso che il gioco sarà quello del cortigiano, si indica nel conte Ludovico di Canossa quello che condurrà le signorili discussioni. Lo svolgimento lo deduciamo dal racconto dei presenti. Seduti in circolo, come era nella prima diapositiva, torniamo indietro, un uomo e una donna, in piedi chi non riesce a sedersi, un giudice, gli interventi dei partecipanti, secondo un ordine preciso, la presenza di penitenze, di premi, sono tutti elementi che tolgono ogni dubbio sull'effettiva pratica di un rito ludico. Non c'è gioco senza regola. Questo è un primo passo, però, dal cortigiano, non ricaviamo le regole. Per poterne disporre non bisognerà attendere molto. Nel 1551 usciva a Bologna il libro dei cento giochi liberali d'ingegno di Innocenzo Ringhieri. Andiamo alla quarta. Ogni gioco è descritto nei suoi cinque successivi momenti, a cominciare dalla dedica, poi un ampio preambolo che l'odi, meriti e le grazie femminili, la nomina di un maestro del gioco che guida lo svolgimento, distribuisce i nomi fittizi, i ruoli ai singoli partecipanti, insieme alle frasi che dovranno ben ricordare per procedere. E con questi si è entrati nella fase vera di svolgimento del gioco, la prova sostanzialmente dialogica e verbale a cui i giocatori prendono parte, che poi proseguirà alla fine con i dubbi, ossia le pene, i peigni, le penitenze, che dovrà scontare chi nel gioco è incappato in passi falsi. Si dovrà discutere, per esempio, gli argomenti sono suggeriti dal Ringhieri stesso, se le virtù possono essere vizi e i vizi virtù a seconda dei tempi, perché la prudenza è regina delle virtù morali, se è vera virtù quella di Ercole che uccise i mostri, perché a Roma il Tempio della Virtù faceva da soglia quello dell'onore. Vedete come è tutto artificioso, lezioso. L'elemento che comunque più caratterizza il testo è la centralità del ruolo delle donne, indicate volta per volta come suovissime, dotte, compassionevoli, splendenti, leggiadrissime, discrete, sagge, vivaci, graziosissime, pudiche, onestissime, ragionevoli, gioiose, industriose, affabili, ricche di concetti altissimi e via dicendo quanto volete. Con il suo carattere di manuale, l'opera di Ringhieri segna un punto fermo nella storia delle veglie, ma il vero snodo si ha con il mondo delle accademie e con Siena, e anzitutto con il senese Girolamo Bargagli e con il suo Dialogo dei giochi del 1572, le accademie. Le accademie che nel retorico, 500, si venivano diffondendo in Italia per il progresso delle scienze e delle lettere, in realtà furono per lo più dei piacevoli luoghi per incontri festosi, tra personaggi rispettabili e raffinati, di alto livello sociale, e in questa fioritura Siena ebbe un ruolo di prestigio. Con il Bargagli lo schema è lo stesso del Castiglione, ma i giochi hanno una regolamentazione che il cortegiano non aveva. C'era stato di mezzo anche il lavoro, il libro del Ringhieri, ma anche rispetto a Ringhieri il Dialogo dei giochi di Girolamo Bargagli ha delle profonde differenze. È una ricchissima conversazione, quel volume, con un manuale, non un manuale, non un manuale alla Ringhieri, ma un manuale che ha anche un vero catalogo di ben 130 giochi, tutti verbali. Con quel volume si pongono anche le basi della reputazione senese, per cui la pratica passerà alla storia come quella delle veglie senesi. Bargagli non esita a dichiarare che quei giochi debbano essere ritenuti un'invenzione senese, in particolare dell'Accademia degli Intronati, di cui faceva parte. In realtà si possono ricordare molti precedenti, di Porti, di Girolamo Tirabosco, Le piacevoli notti di Gianfrancesco Straparola, poi Francesco Doni, Andrea Calmo, ancora Stefano Guazzo, ancora fino a Tommaso Garzoni, di pochi anni successivo a quel volume, che nel capitolo sui giocatori, nel suo volume La piazza universale di tutte le professioni del mondo, elenca ben 107 dei 130 giochi galantemente riportati dal Bargagli. Ma Bargagli liquida tutto questo come una pre-storia. In passato ci sono fatti giochi del genere, c'era questo modo di festeggiare, ma è un modo proprio di Siena. È Siena che in qualche modo mette il cappello sulla pratica. Bargagli fissava, questo è l'esempio di un non credo che riuscirete a leggere, ma dà l'idea di come fossero complessi questi giochi verbali di domande, risposte, passaggi da un giocatore all'altro. Dicevo, la fortuna del volume di Bargagli è fissa anche un'idea che i giochi di veglia fossero specialmente legati agli ambienti dei cittadini. In realtà le cose non stanno così. Già da tempo, per esempio, la veglia villanesca di Francesco Fonsi, andiamo avanti, ci proponeva una veglia rusticale di ambiente contadino. Siamo al 1521. Descrive senza pudori una situazione di villa in cui le giovani contadine si muovono con una spigliatezza che è lontana dalle formalità accademiche e dai rituali della città. Comunque si ribadiva, anche attraverso pubblicazioni di questo genere, la primazia senese. E Bargagli si preoccupava anche di spiegare come si articolasse la grande famiglia dei giochi di veglia. Due filoni centrali, i giochi di spirito e di ingegno, quelli con la genialità delle invenzioni, la brillantezza dei ragionamenti. Di lato, quelli di scherzo e di piacevolezza, dove si tratta sostanzialmente di divertirsi e di ridere. E poi a seguire tutta una complessa articolazione. Tutto naturalmente doveva avvenire come si conviene a una società da bene, a una nobile brigata. Il giocatore doveva presentarsi come il fo, ben vestito, educato, una graziosa virilità senza la languidezza effemminata che va lasciata alle donne. Deve saper discorrere delle giuste cose, tenendo conto del pubblico, quindi lasciare stare ferimenti, guerre, seccature. Soprattutto nei confronti delle donne deve avere parole sempre di lode, di esaltazione, onorandole, dice lui, all'usanza spagnola. Anche le dame però hanno obblighi e non sono solo l'oggetto delle attenzioni maschili. Gli uomini devono guadagnarsi il favore delle compagne di maggior prestigio. Queste, in un gioco alla pari, devono conquistare il favore dei giovani più principali, cioè quelli che danno più reputazione. Nel discorrere, i riferimenti colti e letterari sono fondamentali. Dante, Petrarca, Boccaccio, i classici, il tasso. I testi hanno però una funzione assolutamente strumentale. Contano le citazioni tagliate e manipolate nella prospettiva della ludicità. Così, per esempio, quel giovane che nel gioco deve interpretare il verso petrarchesco «Lo star mi strugge, il fuggir non maita» della canzone «Perché la vita è breve», in cui Petrarca canta gli occhi di Laura e l'amore ideale, lo spiega quel verso come l'uomo che nel forte e freddo stando vicino a un gran fuoco si strugge, ma se si allontana teme di assiderarsi e l'interpretazione merita l'applauso. Ma ci sono anche altre novità. La donna, che prima rimaneva l'oggetto, per così dire, passivo del gioco, ora con il dialogo ha un ruolo. Addirittura si precisa che di due cose hanno bisogno gli accademici. La protezione di chi governa è il favore delle donne di maggior prestigio. Quindi non si guarda soltanto ai poteri politici, ai poteri pubblici, diciamo meglio, ma occorre l'attenzione fondamentale all'elemento femminile, del quale bisogna celebrare le lodi, insegnandosi a garantirne lo svago e il diletto con i vari passatempi. Certo, si devono fare i conti col contesto, siamo a ridosso del concilio di Trento. I lunghi lavori conciliari sienano conclusi dopo decenni nel 1563. Circola già da tempo l'indice dei libri proibiti. Ecco, nel dialogo un piccolo indice dei giochi proibiti, molto ambiguo, costruito tra negazione e spiegazione. Il Tempio di Venere, dove si va a chiedere qualche grazia d'amore. Bargaglie dice che è un gioco bellissimo, ma si stia attenti a rischio di idolatria. Parlare di Tempio può essere pericoloso. Senza scampo, invece, è naturalmente il gioco delle monache e dei frati a difendersi, in cui i giocatori frati o le giocatrici monache devono difendere la compagna o il compagno accusando altri. Attenzione anche all'equivocità del linguaggio, ma poi per esemplificare, nonostante dica questo non si può, spiega bene come funziona, per esempio, il gioco del dar da beccare il fico all'uccello, per il quale la simbologia sessuale è fin troppo evidente. L'autore stesso ne dichiara la succidezza, ossia l'evidente oscenità, ma poi narra per punto e per segno come si svolga con il cavaliere che si reca dalla dama per beccare il suo frutto e se questa non accetta indica anche il cavaliere che preferirebbe. E lo stesso spiega Bargaglie il gioco dei lavoratori, dice questo non si fa, ma il gioco dei lavoratori mi spiega la scontata metafora sessuale del mezzadro con i campi da lavorare con le ben dieci donne che gli darebbero da lavorare i loro poderi. Si va molto in là. È in due puntate addirittura la vicenda del giovane amante che vuole ottenere l'amore della pulzella che gli promette tutto, ma solo dopo che avrà un marito per non privare il marito del debito fiore. Così durante il gioco del versificare la fanciulla se ne esce con un verso dell'Orlando furioso che il giovane intende come invito a non cercare una rapida vittoria e risponde con un altro verso dell'Orlando che la vittoria difficile è quella che fa più degno il capitano. Segue poi la parte diciamo privata le insistenze del giovane la fanciulla minaccia che se avesse ceduto le sue lusinghe non avrebbe poi lui potuto più sperare nulla il giovane pensa che si tratti di una ritrosia cerimoniosa l'incontro alla fine va in porto ma la fanciulla mantiene la parola o è offesa per l'egoismo dell'amante che l'ha spinta a ciò che non voleva la loro storia privata è chiusa ma in una successiva occasione dello stesso gioco ecco l'amante deluso e abbandonato che recita con Petrarca e io del mio dolor ministro fui e la fanciulla riadatta i versi del poeta portandoli dal maschile al femminile è il pregatore e i preghi fursi ardenti coffesi me per non offender lui in sostanza si colgono i comportamenti raffinati ma pronti fino alla scommessa audace alla proposta amorosa ardita la moralità formale comunque senza compromessi è pronta a compromessi senza troppe remore sarà con i trattenimenti di Scipione Bargagli il fratello del 1587 che si giunge alla piena maturità nella vicenda delle veglie senesi per di più l'autore ci offre questo davvero mancava la descrizione puntuale di alcuni giochi nel loro funzionamento non lo tratteremo non ci sarà tempo ma ricordiamo solo i passaggi strutturali di quel testo ecco i trattenimenti affacciate sulla via principale durante l'assedio di Siena il racconto è portato al 1555 ci sono quattro nobili fanciulle che ragionano su come fossero felici i carnevali in tempo di pace e vogliono reagire alle restrizioni della guerra a questo punto compare sulla via un gruppo di cinque giovani sono amici ricchi di ogni qualità a livello sociale delle fanciulle è la situazione che consente l'incontro e il recupero della tradizione ludica come risposta persino orgogliosa alla guerra uno di loro legato da una qualche parentela alla padrona di casa apre la via e si sale qui è già pronto il salotto per quattro sere intere di giochi fra l'altro la compagnia non si pone problemi nel praticare il gioco del tempio d'amore che corrisponde a quello del tempio di venere che nel dialogo era nell'indice dei proibiti è ricordato anche il gioco della pecchia la ape e del fiore che corrisponde a quello del dar da beccare il fico all'uccello esso pure sconsigliato per la sua succidezza per la sua oscinità da Girolamo Bargagli ma torniamo al legame fra i giochi di Veglia e Siena non sarà un caso non basterà spiegarlo nemmeno il successo editoriale dei Bargagli evidentemente le Veglie Senesi avevano mi pare qualcosa che le distingueva doveva essere percepito in modo più o meno conscio e dobbiamo partire proprio da quello che abbiamo visto e detto essere il fulcro dello svolgimento della Veglia la centralità femminile del resto fin dal 1532 un poeta friulano Giovanni Mauro che passava per Siena era rimasto sorpreso dal ruolo delle donne nel gioco e dalla domestichezza fra i sessi ma saranno i Bargagli a precisare questa condizione Castiglione Ringhieri gli altri va benissimo ma qui ora le donne non se ne stanno chiuse nella loro bellezza silenziose come altrove con la modestia e il ruolo che la situazione femminile richiedeva nelle pagine del Castiglione del Ringhieri la dignità delle donne era provata quasi soltanto dal mutismo per contrasto si pensi al racconto dei trattenimenti del Bargagli costruito sulla disinvolta decisione di quelle giovani che affacciate sulla pubblica via fanno salire senza alcun problema i cinque amici con i quali condividono il proprio salotto in assoluta libertà le severe costrizioni di genere vacillano nell'ambito del gioco la familiarità fra i sessi è tale che già in passato si ricordava fra gli accademici la onesta di mistichezza con alquante belle e giovani donne tale che in qualsiasi momento potevano raggiungerle con la libertà con cui ci si reca da una sorella qualche esempio di questa situazione speciale già nel dialogo era la donna niente affatto passiva a condurre il gioco della nave scegliere due uomini e poi decidere chi buttare a mare e nei trattenimenti di Scipione Bargagli nel gioco dei lavoratori ricompare la già incontrata metafora sessuale del dialogo la lietissima primavera che rende più morbide e gentili le terre rinnova gli orti delicati favorisce una perfetta semina che fatta con buoni strumenti produce saporiti frutti i sottointesi erotici sono evidenti ma in questo caso la simbologia sessuale è irreversibile ed ora pure la donna non solo il mezzadro potrà coltivare gli amorosi terreni e nel gioco della caccia d'amore nel dialogo a caccia d'amore partono soltanto gli uomini con i trattenimenti non ci saranno differenze di sesso anche le novelle di Penitenzo Premio non mancano di disinvoltura per esempio c'è quella della giovinetta sedicenne che in maschera riesce a godere l'amore di Ricciardo senza farsi riconoscere così che le parva esser sicura ad aver preservato schietto e senza macola a niente il suo onore la lieta compagnia ne discute ma non ha nulla a dire sul comportamento della fanciulla i pareri riguardavano soltanto quanto l'onore può dipendere da ciò che si conosce e dall'opinione che si ha piuttosto che da ciò che si fa è il trionfo dell'apparenza a noi importa non solo il grado di disponibilità al trasgressivo in questi contesti culturali non furono i giochi di veglia a proporre le punte più avanzate di licenziosità ben altro si incontra e nell'ambito dell'Accademia degli Intronati esce il più osceno prodotto della cultura cinquecentesca su cui non mi soffermo la specialità sienese va misurata non in termini assoluti ma in termini comparativi verificando come le donne fossero proposte nella produzione dello stesso tipo in ambiente non senese e allora ecco pesare il loro silenzio piuttosto il loro parlare la donna qui è attrice vera per stare al gioco gli uomini devono persino imparare quei romanzi di stampo cavalleresco di matrice spagnola racconti fantastici con tutto il fascino del cavaliere errante cresciuti nella tradizione della madis di gaula di testo spagnolo non c'è dubbio che si trattava di cose da donna il giudice maschile è netto quei libri sono troppo lunghi noiosi intere montagne dove scavare per trovare qualcosa di prezioso sono un fastidio ma bisogna leggerli con donne conversando è la via per procacciarsi la loro grazia e quelle donne ora hanno un ruolo ben più ragguardevole rispetto al passato il gioco è la loro arma e nei trattenimenti l'autore fra l'altro si chiede perché mai a loro si è impedito esprimersi alla pari degli uomini nella stessa maniera che gli uomini fanno con l'ingegno la decisione il valore di cui sono capaci per chiudere conviene richiamare l'impresa l'emblema che Scipione Bargagli illustra con immagina anche in una sua più tarda opera riproducendo l'emblema di una giovine gentildonna il soggetto immaginato per la giovane è pensato da Girolamo Bargagli scelto dalla giovane ed è di straordinaria efficacia l'uccellino è libero e sta fuori e sopra la gabbia e a illustrare il tutto ecco il moto della fanciulla amica non serva naturalmente immagine e moto sono in funzione del gioco e del regno dell'amore e in proposito Scipione Bargagli spende pagine di citazioni e rime dotte per ragionarci sopra secondo l'uso del tempo ma per capire il senso del percorso compiuto con i giochi di veglia credo che davvero basti quell'immagine che purtroppo non posso proporvi grazie ringrazio anche per essere stato nei tempi ci siamo dati 25 minuti quindi ricordo anche a tutti che dovremmo poter stare in questi tempi forse le domande alla fine dei primi tre perché dopo i primi tre relatori o alla fine della sessione possiamo i primi tre relatori poi faremo una pausa un caffè non lo so e poi gli altri due lascio la parola adesso lascio la parola a Paolo Procraccioli con le carte parlanti di Pietro Arettino questo questo gioca a fare il muto ecco quest'altro condividiamo bene allora grazie a i doppi organizzatori quelli veronesi che hanno consentito la realizzazione della manifestazione e quelli trevigiani che sono stati attori di questa sezione delle varie giornate l'argomento sul quale vorrei intrattenermi con voi in questa circostanza è un argomento che non è propriamente immediatamente legato al gioco in quanto tecnica in quanto pratica è un discorso che ha invece una sua prospettiva particolare secondo la quale guarda il gioco allora il nome che muove tutto è Pietro Aretino un personaggio che per tutti si associa a concetti si associa a prevenzioni che in qualche modo rendono difficile l'associazione con un prodotto come quello che potete vedere ho in mano un volume dell'edizione nazionale delle opere di Pietro Aretino nella nostra formazione scolastica questo personaggio insomma ha difficoltà a entrare dentro la tradizione alta della letteratura quindi l'idea che ci sia un'edizione nazionale delle opere di questo personaggio già in qualche modo è un un problema da chiarire come mai il fatto è che noi guardiamo a questo come qualche altro personaggio della nostra tradizione con l'ottica sette-ottocentesca l'ottica di chi si è incaricato di costruire la storia della letteratura ma se noi andiamo a guardare invece i repertori cinquecenteschi gli annali editoriali allora non ci meraviglieremmo questo personaggio ha un diritto di cittadinanza assoluta perché è tra gli autori di bestseller di quella stagione poi arriva la grande glaciazione 1559 index librorum proibitorum questo autore viene assolutamente eliminato la stessa memoria dell'autore deve essere sradicata dalla tradizione e questo è successo relativamente perché poi quello che non si poteva fare ufficialmente si faceva per via carsica e quindi i testi di aretino hanno continuato ad essere proposti letti eccetera sia pure o sotto pseudonimo nel seicento a Venezia si pubblicano decine e decine di edizioni di aretino con lo pseudonimo di partenio e tiro oppure si leggevano negli inferni delle biblioteche dove sono stati conservati allora questo per brevissimamente contestualizzare l'opera nel dettaglio il testo su cui mi soffermo è noto con il titolo seicentesco di carte parlanti in realtà il titolo originario era diverso e era dialogo di Pietro aretino nel quale si parla del gioco con moralità piacevole dialogo aretino gioco e moralità piacevole quattro elementi che richiedono un minimo di indugio e la data non ve l'ho detta l'edizione è del 1543 anche questa è una data particolarmente significativa in chiave aretiniana in chiave ludica e in chiave anche ideologica siamo all'inizio del concilio di Trento dal 42 è stata introdotta l'inquisizione italiana dialogo è un termine tecnico poco fa Gherardo Gherardo Ortalli ha fatto riferimento a Castiglione al corteggiano per tutti compreso aretino quello di Castiglione era il modello di dialogo rinascimentale riprendeva sì i modelli classici ma rinnovato quel modello nel corteggiano modello per tutti un modello in Italia e fuori d'Italia ha continuato ad essere prodotto stampato guardato con interesse fino a tutto il Settecento cosa ci doveva essere in un dialogo ci doveva essere il rispetto di certe regole regole formali l'impostazione del dialogo doveva avere una certa scansione e poi richiedeva il dialogo l'attenzione agli interlocutori chi veniva introdotto a parlare più ancora che l'argomento era fondamentale il gioco si risolveva nella risposta che si dava a questi due tratti come si costruiva il dialogo e con chi in questo caso i due tratti sono molto molto caratterizzati e sono anticonvezionali il come qui tutto il gioco è basato su un accumulo ossessivo di riferimenti che non sono svolti sono appena accennati sono riferimenti a fatti personaggi contesti notissimi naturalmente al lettore del tempo che per noi sono oscuri è uno dei testi più difficili in assoluto della letteratura rinascimentale perché il dosaggio tra noto e ignoto per noi è assolutamente sfavorevole ora se ci rendiamo conto che in questo dialogo gli scenari cambiano ogni tre o quattro righe potete immaginare la difficoltà del lettore che si sente praticamente in apnea perché coglie che ci sono riferimenti continui che a lui sfuggono è come se uno straniero dovesse seguire la politica italiana non di oggi ma di sempre del novecento come si fa a rendere conto del dibattito in corso tra il dosaggio del dibattito che si svolge nel momento e tutte le implicazioni le dietrologie eccetera ecco questo esasperato ha una potenza molto alta è ciò che caratterizza questo testo un testo arduo per me ormai sono una trentina d'anni che convivo con Aretino è in assoluto il testo più difficile per fortuna da quest'anno abbiamo un'edizione che risolve buona parte di queste difficoltà e appunto è questo volume dell'edizione nazionale curato da Giuseppe Grimi un giovane studioso che ha dedicato 4 o 5 anni all'argomento ma fin qui siamo al come il chi ecco questo è un altro argomento assolutamente innovativo e spiazzante non è un trattato tecnico è un discorso svolto dalle carte stesse quindi la prospettiva non è di analizzare le carte le regole dei giochi dei vari giochi non si tratta di ripercorrere una tipologia dei giochi la prospettiva è esattamente l'inverso sono le carte che guardano i giocatori è il mondo dei giocatori che viene illustrato il mondo dei giocatori vuol dire la società cinquecentesca di primo e medio cinquecento che viene attraversata tutta in prospettiva ludica e questo è estremamente interessante rende questo testo una specie di riassunto della delle dinamiche non solo letterarie non solo ludiche ovviamente ma dinamiche sociali dinamiche religiose dinamiche politiche dinamiche economiche dinamiche geografiche perché nel dialogo l'autore mette in gioco i protagonisti della società italiana e non solo italiana perché l'autore è un personaggio che ha un respiro europeo è un interlocutore del re di Francia è un interlocutore corrispondente dei grandi di Francia è un pensionato dell'imperatore dal 1536 è titolare di una pensione annuale che gli viene corrisposta dall'imperatore insomma siamo a questi livelli è un personaggio che dispone di tre ritratti di Tiziano qual è eccetto Carlo V il monarca europeo il papa europeo che può disporre di tre ritratti di Tiziano e in più tanto per non farci mancare niente un ritratto di Sebastiano del Piombo e in più medaglie coniate da Leone Leoni che era il medaglista di Carlo V eccetera è senz'altro il personaggio privato più ritratto dell'epoca in assoluto questo per dire allora quando questo personaggio entra in gioco su questo argomento e si incarica di condensare le dinamiche della società primo cinquecentesca rivivendole in chiave ludica sta facendo un'operazione che è un'operazione molto molto particolare tenendo presente un altro dettaglio il dettaglio moralità piacevole del titolo dialogo nel quale si parla del gioco con moralità piacevole l'oggetto e il soggetto sono le carte carte e moralità è qualche cosa che stride fortissimamente nel cinquecento come strideva nel trecento nel quattrocento come avrebbe continuato a stridere nel sei nel settecento a livello naturalmente di ufficialità ecco questa è la proposta di Pietra Retti e è una proposta in qualche modo scandalosa dare la parola alle carte non si faceva non si poteva fare non si doveva fare le carte andavano al più tollerate regolamentate ghettizzate si gioca a carte nei in certi luoghi in certi momenti non era liberalizzato così il gioco qui il gioco delle carte è sempre gioco con soldi in ballo sono sempre grosse somme il per cogliere il senso di questa opera e dell'operazione che rappresenta bisogna tenere presente un altro dettaglio Pietro Aretino non era nuovo a episodi di questo genere nel 1543 nel dialogo del gioco o carte parlanti dà la parola alle carte ma era recidivo nel 1534 e nel 1536 aveva scritto altre due opere il ragionamento della nanna e dell'Antonia e il dialogo della nanna e della pippa il sottotitolo del ragionamento del 34 era il ragionamento della nanna e dell'Antonia nella quale si raccontano le vite delle monache delle moglie e delle puttane la nanna la pippa e la Antonia sono due sono tre rappresentanti del mondo delle cortigiane la nanna è una cortigiana prossima alla pensione la Antonia è una ex cortigiana ruffiana la pippa è la figlia della nanna che è sul punto di fare la scelta cosa farò nella vita quale mestiere faccio allora la nanna cosa fa stuzzicata dall'Antonia ripercorre la propria vita aveva cominciato come monaca poi si era smonacata si era sposata ecc a vedere le cose dall'esterno noi abbiamo una climax discendente monaca moglie puttana questi sono i termini che lui usa in realtà dice Aretino le cose non stanno così è esattamente il contrario la monaca ufficialmente tiene il primo posto nella graduatoria sociale in realtà nella realtà veneziana degli anni trenta la monaca tiene il posto più basso perché la monaca non è all'altezza del suo ruolo e non è un'invenzione di Aretino questo è quello che interessa soprattutto quando Aretino pubblica questi testi nessuno né in Italia né fuori protesta perché Aretino costruisce una narrazione infarcendo la biografia di questa monaca con una serie di fatti reali fatti che tutti conoscevano più che fatti sono fattacci monache che fuggono monache che abortiscono monache che vengono prese dai frati e vengono portate nei bordelli tutte cose documentate in archivio segreto di Vaticano e in biblioteca apostolica Vaticana c'è una documentazione raccolta da Gian Pietro Carafa quando era vescovo vescovo di Chieti però per un certo periodo è stato a Venezia e a Venezia raccoglieva tutta una documentazione relativa ai conventi poi diventerà Papa Paolo IV ma a Venezia si dava da fare per cercare di fermare la corruzione dei monasteri caso clamoroso che si verifica negli anni 31, 32 e 33 1531, 32 e 33 a Venezia le autorità cittadine stufe di vedere le proprie figlie protagoniste di vite scandalose chiedono di riformare i monasteri ma le monache cosa fanno? si appellano a Roma dicendo noi dipendiamo da Roma allora paradossalmente abbiamo a Venezia il potere politico che cerca di riformare i monasteri e Roma che si trova a difendere una situazione di corruzione in questo contesto Aretino scrive questo ragionamento nessuno parla nessuno può dargli torto le cose stanno effettivamente così lui si trova a dare la parola alle monache dimostrando la loro corruzione e dimostrando le ragioni della serenissima allo stesso modo in qualche modo nel 1543 sono passati pochissimi anni Aretino è in corsa per il cardinalato per strano che possa apparire per un decennio Aretino è stato lì lì per essere fatto cardinale nel 43 Aretino interviene dando la parola a un altro soggetto scandaloso era scandalosa la puttana e non meno scandalosa la pratica delle carte scandalosa a livello naturalmente pubblico nel primo caso aveva agito come in qualche modo collaboratore esterno della signoria nel secondo caso agisce in prima persona direttamente e c'è una differenza che rende conto di queste due stagioni nel 34 la sua denuncia è portata avanti in un dialogo nel quale non vengono coinvolti nomi grandi i grandi nomi ci sono ma sono in uno spazio ristretto nella dedica poi il testo va avanti per conto proprio i personaggi sono quelli della memoria della protagonista della nanna nel 43 il discorso è tutto in prima persona e i personaggi sono chiamati in causa direttamente nel testo i personaggi si chiamano papi leone decimo clemente settimo i personaggi si chiamano francesco primo si chiamano carlo quinto e si chiamano tutti i signori d'Italia alla fine e questo sarà il titolo che poi darò per gli atti si può intonare un così fan tutti questa è la logica che viene dichiarata all'interno di questo testo le carte che sono perseguitate sono oggetto delle ire dei predicatori delle precauzioni dei legislatori in realtà sono una pratica diffusissima a livello sociale tutti giocano a carte e nel dialogo Aretino si incarica di ripercorrere quasi in chiave sociologica quasi fosse un trattato di sociologia del gioco le pratiche secondo le varie categorie come giocano i signori come giocano gli artigiani come giocano preti e monache eccetera quindi vedete quando all'inizio parlavo di una società rispecchiata in questo testo bene ci sono indizi che ci aiutano a cogliere proprio a localizzare a livello sociale ai vari livelli di quella società la pratica del gioco e il gioco è anche un'altra cosa in questo testo è l'occasione per fare i conti con alcuni potenti potremmo leggere il testo chi volesse potrebbe divertirsi a farlo come si faceva nelle scuole di una volta quelle politicamente scorrettissime con la lavagna divisa in due buoni e cattivi ecco qui abbiamo tutta l'Europa tutto l'Occidente diviso in due categorie quelli che usano il gioco bene per dar prova di magnanimità di generosità e quelli che invece usano il gioco per prevalere sugli altri gli avari eccetera questo è un altro aspetto del testo è quello più legato naturalmente alla biografia quello magari a noi interessa di meno però c'è anche questo e c'è anche perché Aretino nel 40 era stato vittima di un stato vittima delle carte aveva mandato un suo creato come si diceva allora cioè un suo servitore alla corte di Francia e aveva avuto in dono 800 ducati un'enormità 600 dal re di Francia e 200 dal cardinale di Lorena questi 800 ducati non arrivano in Italia perché questo personaggio che era un giovane poeta milanese si chiama Gian Ambrogio degli Eusebi se li gioca a carte li perde tutti quanti Aretino scatena le cancellerie italiane e francesi per recuperare quei soldi non ci riesce questo personaggio fugge teme le ire del padrone fugge dalla Francia a Spagna in Portogallo e va a finire in Sud America scrive una lettera ad Aretino ad Aretino da Rio della Plata che tra l'altro sarebbe anche il primo documento la prima lettera scritta in Italia perlomeno la prima lettera nota scritta in Italia dall'America meridionale allora uno come Aretino che aveva perso al gioco una somma di quel genere poteva avere qualche motivo di qualche rivendicazione da avanzare nei confronti delle carte e questa sua prevenzione in qualche modo la fa rifluire nel nel suo dialogo ma senza coinvolgere le carte distinguendo le responsabilità non sono le carte ad essere cattive di per sé dicono le carte a un certo punto che loro hanno due progenitori un angelo e un diavolo a dire che dipende dal giusto mezzo anzi lo dice ufficialmente in un in un paragrafo ora non pure il gioco e la milizia ma la sanità la ricchezza la forza e la beltade quindi tutte tutte le cose buone e cattive non si usando con i mezzi dovuti doventariano male la sanità la ricchezza la forza la beltà non sono di per sé cose buone o cattive dipende dall'uso che se ne fa come conclusione mi sembra una conclusione possibilista e una conclusione che va verso una visione delle cose e della società che si era rispecchiata in questo in questo dialogo che è ispirata a grandissima tolleranza e non era il clima che stava montando non era proprio il clima che stava montando in Italia negli anni 40 del 500 grazie 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 non lasciamo l'Italia restiamo bene in Italia ma ritorniamo ai soldi e il gioco esaurita la crociata dei predicatori quattrocenteschi contro il gioco abolite o in declino in molte parti le case pubbliche del gioco d'azzardo e la gabella sulla barattaria non da ultimo qui a Verona non funziona non mi sentite eh sì ok grazie allora in corso di estinzione le tradizionali tolleranze del gioco d'azzardo durante certi festi nel 500 sono già in uso nuovi giochi aleatori di cui non parlano né i predicatori né gli statuti dei comuni il sistema ludico si sta trasformando e differenziando se durante quasi tutto il medioevo l'azzardo veniva identificato con i dadi la situazione cambia radicalmente a prescindere delle carte da gioco purtroppo sono le scommesse e le lotterie a essere in evidenza in vario modo nonostante i provvedimenti di alcuni legislatori orientati a relegare il gioco d'azzardo da un ambito privato scommesse lotterie ottengono una nuova visibilità alla base di questa novità si può individuare una relazione fra rischio azzardo ed economia e un legame del capitalismo mercantile e finanziario con il potere mentre il volume e la complessità del commercio crescono l'altra faccia della razionalità mercantile è il ruolo del caso della fortuna e dell'avventura già nel medioevo la nazione del rischio nel commercio e nelle finanze era associata ai contratti assicurativi e al gioco ma è solo alla soglia del cinquecento che il nesso fra l'alia la sorte e l'economia assume una forma più concreta si manifestano i primi elementi della moderna categoria del contratto aleatorio nella quale rientrano attività commerciali strictus sensu e giochi il gioco d'azzardo le scommesse la lotteria le assicurazioni maritime e le compravendite a termine sono tutti contratti e attività commerciali basati sul caso la fortuna così la fortuna ha una valenza economica il lucro proveniente da tali attività può essere giustificato e con alcune precauzioni non viene più assimilato automaticamente all'usura Farnese 15 e 16 Medici 10 Grassis 9 Valle 7 si direbbero corsi della borsa ma sono le quote delle scommesse fatte a Roma su chi diventerà Papa siamo nel 1523 ben prima che le scommesse vengano ritenute un costume tipicamente britannico questa pratica era diffusa nel continente in Italia Catalonia e Fiandre su grande scala e con un grado di commercializzazione impressionante si scommette su tutto sui pali sui successi della guerra sulla vita e morte dei papi ed altri signori sul ritorno o no delle navi sulle elezioni o estrazione a sorte dei magistrati e così via sul gioco certamente nel 500 i documenti parlano innanzitutto delle scommesse sulla promozione dei cardinali e sulle elezioni e sulle elezioni del nuovo papa c'erano 17 nel 500 che non è male come occasione di scommettere e si scommetteva sul sesso dei nascituri in Roma a Roma il centro delle scommesse è il quartiere dei banchi i banchieri ma anche altri prestatori di denaro sono impiegati in questo negozio bene organizzato molto lucrativo ma anche rischioso per esempio l'unico argomento finanziario nella corrispondenza di Filippo Strozi con suo fratello Lorenzo durante il conclave del 1521 22 sono le quote delle scommesse si punta presso i sensali a liberatori peraltro non sempre onesti questi mediatori commerciali e finanziari di ogni genere si parla dei sensali che vendono e comprano e barratano il papa futuro a scommesse come garanti alla spalle alle spalle di alcuni sensali agiscono veri banchieri tutto il mondo gioca Sisto Quinto si pili a gusto incredibile di vedere le liste delle scommesse che si fanno in banchi sopra i purpurandi e sopra altri corsi futuri si legge nelle avvisi cioè la stampa del tempo nel 1586 si puntano a somme complessive elevate secondo gli avvisi che informano anche sulle quote la promozione la promozione dei cardinali del 1588 è il più grande affare del momento a Roma finanze reti commerciali politica informazioni privilegiati voci e manipolazione si intrecciano e alterano le quote anche a Firenze si gioca su papi e cardinali futuri ma in Toscana come a Roma a Venezia a Genova in Sicilia si scommette soprattutto sui parti delle donne ossia amastio o femmina sulle panze si dice a Venezia di tutte le scommesse questo genere è maxime in uso benvenuto Cellini è coinvolto posso avere la prossima benvenuto Cellini è coinvolto in questo commercio come socio capitalista in compagnia con un sensale ecco una si vede fra le carte del Cellini si trova questa lista delle scommesse c'è un dettaglio la prossima per cortesia grazie dove si può vedere cinque ah non può cinque scommesse su mastio tre su mastio e due su femmina a questo fenomeno così diffuso in generale le autorità reagiscono con divietti a Roma e a Firenze invece si ha una qualche tolleranza regolamentata almeno fino all'inizio degli anni 90 il mercato viene autorizzato e naturalmente fiscalizzato a Roma si crea un ufficio ovvero il collegio dei sensali delle scommesse e si limita il numero dei sensali non si possano più organizzare scommesse senza licenza scritta del commissario generale dei sensali i sensali ufficiali devono depositare una cauzione di ben 36.000 scudi una prova materiale della regolamentazione e burocratizzazione sono i bollettini le polizze si dice stampati ecco con un dettaglio il prossimo ecco proprio un bollettino di scommesse stampati a Firenze ma trovato in un processo a Roma nel 1590 queste ricevute sono negoziabili e intercambiabili nel modo descritto dal Camerlengo anche a Firenze il legislatore comincia a regolamentare il gioco il bando del 1563 sulle scommesse al mastio femmina lo mette in analogia con commercio mercantile e fornisce istruzione dettagliate per i sensali o mezzani vietate queste scommesse nel 1585 l'intermediazione sull'elezione dei cardinali due anni dopo fu data in privativa a 20 sensali abilitati dall'arte del cambio i sensali deputati ma anche i loro aiutanti pagano una tassa annuale ci sono quote differenti per Roma e Firenze basate sulle informazioni distribuite attraverso le reti dei mercanti che hanno accesso ai vari mercati dei bollettini del gioco si potrebbe paragonare a una borsa primitiva e il paragone non è affatto fuori logo alla borsa di Anversa uno dei più grandi mercati monetari e speculativi dove è attiva un'importante colonia italiana si scommette sulle elezioni dei papi si scommette anche sul sesso dei nascituri ed è proprio imitando questo gioco che i grandi mercanti banchieri scommettono sulle differenze del corso di cambio delle monete fra le fiere in Spagna e nelle Fiandre anticipando gli odierni contratti a termine la speculazione mercantile utilizza le scommesse non senza effetti sull'economia reale perciò la disposizione napolitana desponsionibus mercatorum del 1567 proibisce le scommesse sopra la voce cioè il prezzo delle derrate che si ha da fare nei grani dal che dalle scommesse nasce l'alterazione dei voci ed i prezzi dei grani si sono mantenuti alti per utilizzare le parole dello storico Fernand Brodel i giochi reali del commercio di beni si amalgamarono con i giochi artificiali del commercio monetario mentre gli spagnoli stanno per saccheggiare il nuovo mondo per accumulare ricchezze e capitali l'ambasciatore spagnolo a Venezia nel 1522 si sdegna per un'altra cosa scrive i veneziani non si interessano ad altro che fare soldi si spingono a tal punto da possedere un'istituzione da essi chiamata lotto per mezzo della quale è possibile acquisire ingenti sommi molti vendono i propri preziosi e le proprie abitazioni al fine di acquistare biglietti è vero che gli spagnoli diffidano dei veneziani a questo tempo questo lotto questo nuovo gioco come dicono anche i veneziani non è altro che la lotteria già in uso da decenni soprattutto nei paesi bassi ed in alcune città di Germania e Svizzera ma anche a Genova già nel 300 in casi isolati a Milano e a Modena ci sono alcuni estitari qui una lotteria pubblica svizzera dell'inizio del scusa dell'inizio del 500 si vede il carattere pubblico bene il carattere pubblico di questo nuovo gioco un esempio della Germania dove si vede il procedere con due urne con due non so dove nell'una si trovano i biglietti con i nomi e nell'altro si trovano i biglietti bianchi o guadagnanti con i prezzi altro c'è un esempio di Francia dove nuovo perché nel 500 c'è una diffusione delle lotterie in altre parti dell'Europa a Napoli ma soprattutto nel Ducato di Savoia in Francia e in Inghilterra le lotterie diventano anche un simbolo un mezzo per una allegoria questa pittura è ben noto di Dossi una allegoria della fortuna e dell'abbondanza credo che sì e lui tiene il giovane tiene un mazzo di biglietti delle lotterie nella mano destra sì ecco un'immagine molto raro è un biglietto non è proprio un biglietto ma è ricevuto per uno che ha comprato nel 500 un non so quali 55 biglietti in una lotteria dei Paesi Bassi così si presentano con il motto il nome e il prezzo come ben noto la lotteria è uno strumento finanziario qui ci interessa la relazione fra lo Stato principati repubbliche e questo mezzo di distribuzione delle ricchezze prima di tutto si stabilisce come norma che nessuno può organizzare lotterie senza autorizzazione dei governi la lotteria diventa un monopolio finanziario legale già nel 400 il principi delle fiandre si riservava un terzo dei profitti delle lotterie da lui concesse nel 1522 quando scriveva l'ambasciatore spagnolo Venezia proibisce tutte le lotterie private per monopolizzarne le licenze lo fa dato il bisogno di denaro la stessa logica viene adottata dal re di Francia il quale nel 1539 autorizza alcuni mercanti a organizzare lotterie sul modello italiano il capo dell'impresa può dedurre il 12% delle poste come sarebbe usuale ma deve pagare al re 2000 lire annuali per le lotterie a Parigi la lotteria finanzia l'apparato statale per la privativa quinquenale concessa nel 1590 per tenere lotterie nel ducato mantovano l'oreficio Solomon Levy paga 400 ducati all'anno al duca più 100 scudi al funzionario responsabile delle lotterie dunque a un ufficio degli affari ludici mezzo per cento delle puntate all'assessore e l'uno per cento al notaio supervisori le retribuzioni degli ufficiali ed altri ministri che superintendono al negozio delle lotterie ed altre spese fanno parte dei valori messi in circolazione da questo gioco la lotteria produce circuiti redistributivi diversi salari da quelli degli stampatori a quelli dei ragazzini che estraggono i biglietti giri di debito e di credito è un'istituzione alla quale la gente contribuisce volontariamente mettendo dei soldi nella speranza di guadagnare più così si dice nel 1540 una bella dichiarazione di spirito materialistico forse capitalistico certamente speculativo la lotteria è un modo di guadagnare rischiando pochi soldi o in altre parole mettere poco per aver assai un così bel gioco non può essere un obbligo vediamo nel 1530 i fiorentini assediati cercano di far danare in tutti quei modi e per tutti quei versi che sapevano e potevano uno dei modi dice un cronista si chiamò lotto cioè mettere alle polizie forzamente e fecero i fiorentini che i gonfalonieri ognuno per il suo gonfalone componessino in tante polizie quanto pareva loro non è altro che una gravezza ossia una tassa straordinaria detto pure lotto non è da escludere che questo modello sia stato esportato da mercanti banchieri italiani nel 1556 il mercante fiorentino Tomaso Baroncelli propone al governo dei paesi bassi spagnoli una lotteria per estinguere i debiti delle obbligazioni presso i banchieri tedeschi si dovevano scegliere 200 città e 4.000 villaggi per fornire il capitale di questa lotteria il progetto non viene realizzato ma l'idea sopravvive e si ritrova nella lotteria grande e generale degli anni 60 questa modificata da un altro mercante italiano doveva servire a remunerare i mercenari per assicurarsi il successo si proibiscono tutte le altre lotterie tuttavia malgrado tutti i mezzi impiegati per attirare la gente come si dice non si ottengono i risultati attesi la soluzione l'induzione cioè coazione come l'ho fatto prima con le prestanze dice la governatrice Magarita di Parma ma lei stessa dice anche che si tratta di una imposta diretta travestita sull'ombra di lotteria anche a Londra nel 1567 viene indetta una lotteria grande e generale possiamo vedere prossima qui si faceva pubblicità dove si espongono tutti i prezzi che si potevano avere allora le lotterie sono un gioco che utilizza per la prima volta la grande pubblicità allora a Londra mostrandosi la riuscita contrario riuscita scusate mostrandosi la riuscita contraria alla speranza della regina contrary to a highness expectation si individuano dei mezzi per esortare encourage animare o indurre il popolo fra i mezzi ordinati persuadere la gente che sia per il suo proprio profitto ed anche per il bene comune l'utile è destinato alla riparazione dei porti più forte ancora delle motivazioni patriotiche è la volontà espressa della regina che giochino i comuni e le corporazioni ma innanzitutto la corona ricorda che la lotteria sostituisce altri mezzi cioè imposte prestiti tasse di diversi tipi così ci si aspetta che le persone di buona volontà impegnino volentieri il proprio denaro ciò nonostante un anno dopo la lotteria inglese viene diminuita a un dodicesimo la somma complessiva la storia la storia delle lotterie è piena di contraccolpi e perché l'impressa è rischiosa non di rado esse sono state rinviate modificate e annulate e per molte ragioni Mantua ad esempio è un piccolo mercato quando nel 1527 Pietro Aritino nostro caro chiede al Marchese un patente per un lotto una lotteria di 4000 Ducati questi dubita del successo perché come dice il Marchese si è visto per esperienza molte altre volte che si è fatto prova di ponere quasi mili lotti che non si è pur appena potuti arrivare a 600 o 700 Ducati dieci anni dopo l'Aretino deride questa invenzione della sorte asina e dell'esperanza vacca per concludere ritorniamo alle scommesse tra queste e le lotterie si sviluppa una relazione innovativa benché magari si manifesti solo in campo linguistico come noto le scommesse sull'estrazione dei governatori a Genova diventano il cosiddetto gioco del seminario a Torino si parla del gioco che si fa sotto specie di lotto col divinire questo gioco un'istituzione finanziaria dello Stato e con la sua diffusione attraverso la penisola nel 600 assumerà il nome di lotto di Genova quindi una scommessa diventa una lotteria di fronte alla quale le altre scommesse tradizionali menzionate possono soltanto opporre una debole resistenza almeno in Italia questa scommessa genovese è fondata su un meccanismo puramente aleatorio basato su quote fisse dipendenti dal numero dei nomi sulle liste quindi non soggetti all'indiscrezione voci eccetera un vero e puro gioco d'azzardo con la sostituzione graduale dei nomi con i numeri e di fronte al leitmotiv delle casse statali vuote il lotto in seguito troverà un habitat anche lì dove manca una cultura particolare delle scommesse ma con ciò abbiamo già superato il secolo del veronese grazie ringrazio anche Manfred Zollinger per questa panoramica credo che adesso basta io non ho gli occhi dietro mi attrezzerò credo che ci sia una pausa di un quarto d'ora ci diamo benissimo grazie a tutti grazie a tutti